Il mare nella dieta mediterranea. È il tema del convegno tenutosi questa mattina all'Istituto Tilga di Ercolano. L'iniziativa rientra nell'ambito della rassegna Chitano Mare, Festival del Mare del Miglio d'Oro, con la direzione artistica di Gigi Di Luca. È un festival molto importante per tutto il territorio, che è partito a marzo con le attività di formazione ed educazione rivolte alle scuole e continuerà fino a maggio con questa sezione, che comprende laboratori di fotografia, videomaker, laboratori sul cinema e quattro convegni, di cui uno è quello di stamattina qui all'Istituto Tilga sulla dieta mediterranea. È un progetto finanziario dalla Regione Campania attraverso il FLAG e organizzato dalla Bazzarra, con la mia direzione artistica, che prevede tantissime attività in collaborazione con tanti istituti scolastici e tantissime associazioni al territorio, di cui abbiamo stretto un partenerato molto forte, nei comuni di Portici, di Ercolano, di Torre del Greco e di Torre Annunziata. Il festival che ho voluto denominare Chitano Mare è proprio per dare un senso molto forte di appartenenza e di identità. Cioè noi che abbiamo il mare dobbiamo occuparcene, Chitano Mare ha tantissime possibilità, ma soprattutto un festival rivolto a recuperare anche dell'identità, quell'identità vesuviana che ci vede antropologicamente molto legati al mare. La seconda parte del festival, che poi annunceremo successivamente, sarà quella invece rivolta agli spettacoli e gli eventi. Ogni weekend del mese di luglio si terranno spettacoli, eventi, degustazioni, incontri nei porti di queste quattro città. Si inizierà dal comune di Portici il 2 luglio, si concluderà dal comune di Torre del Greco il 24 luglio, con grandi artisti italiani, internazionali, ma soprattutto con una voglia di riappropriarsi di spazi aperti, visibilmente condivisi con tutti, di grande qualità. Dal 23 al 29 maggio ci sarà il Villaggio del Mare, le attività che si chiamano Il Mare si fa scuola, a Torre del Greco, presso i molini meridionali Varzoli, dove la settimana le scuole potranno visitare, con un percorso guidato, tutte le attività collegate e legate al mare, a partire dal Museo della Marineria, con l'laboratorio di Biologia Marina, la Capetineria di Porto, i cantieri navali, la FIV. E il sabato e la domenica, ovvero il 28 e il 29 maggio, presso i molini, allestiremo il Villaggio del Mare, cioè uno spazio di spettacoli destinato alle scuole, che interverranno con piccoli spettacoli dedicati al mare, stand di associazioni che si occupano del mare, di battiti e laboratori. La nostra presenza in questo contesto testimonia il ruolo centrale che ha la Capetineria di Porto, la Guardia Costiera, nella prevenzione e repressione di quelli che sono i fenomeni legali che vengono lungo le filiere ittiche e della pesca. La nostra attività di controllo sul territorio nazionale in materia di pesca marittima è un'attività costante attraverso la quale intendiamo sempre garantire che ci sia un'attività di pesca sostenibile rispettosa dell'ecosistema marino e dell'ambiente. Chiteno Mar è un bellissimo festival del mare, anche bello e suggestivo il titolo, organizzato dalla Bazar per il flag di Regione Campania. E devo dire che stamattina qui al Tilger, che è l'istituto alberghiero della città di Ercolano, abbiamo trovato interessati allievi che hanno ascoltato che cosa significa avere prodotti di qualità, anche che arriveranno nelle loro cucine quando diventeranno cuochi, chef e tutto il personale dell'enogastronomia, prodotti di qualità che vengono pescati nel nostro mare e non solo. L'Unci Agroalimentare ha dato l'adesione al flag Miglio d'Oro, è uno dei soci fondatori del flag Miglio d'Oro. Avendo la rappresentatività di 89% dei pescatori, si collega all'interno di questo progetto come partenariato di base per dare la cultura del pescatore, portare la cultura del pescatore al mare, visto con i piedi in acqua e guardando la terra. Quindi l'attività di quello che è il sostentamento del pescatore, anche attraverso attività di pescaturismo, attività alternative e futuro verso i giovani, quale innovazione e quale opportunità. La dieta mediterranea stimola il turismo esperienziale, quindi promuovere un turismo che arrivi per assaggiare i nostri prodotti, per conoscere le modalità di produzione, mangiare nei nostri ristoranti e quindi nello stesso tempo capire quali sono i nuovi trend di sviluppo del mercato enogastronomico e del settore della ristorazione e soprattutto in seguito ad un periodo, quello di emergenza sanitaria, che ha portato un po' tutti i settori, ma in particolare quello della ristorazione, a reinventarsi. Quindi la dieta mediterranea come volano di sviluppo territoriale. L'importanza della dieta mediterranea per la prevenzione delle malattie cardiovascolari ormai è una evidenza scientifica conclamata da anni. Quindi sicuramente gli alimenti, i prodotti della pesca contribuiscono attraverso l'omega 3 a una prevenzione delle malattie cardiovascolari. Stamattina abbiamo vissuto questa esperienza bellissima a scuola, sentitissima perché i ragazzi hanno comunque iniziato dei percorsi progettuali con il direttore artistico Gigi De Luca, quindi abbiamo vissuto esperienze sul mare, siamo stati al porto, siamo stati in diversi percorsi programmati per i ragazzi per affrontare poi quel convegno finale che si è concluso stamattina. È stata un'esperienza meravigliosa, siamo stati tutti in diretta streaming, sia le classi della scuola e sia la popolazione scolastica da casa. Speriamo in prossimi momenti di aggregazione come questi perché i ragazzi di questo istituto, dell'alberghiero di Ercolano, che è l'unico istituto secondario di secondo grado di questa città, accoglie sempre positivamente queste iniziative perché sono momenti di crescita sia personale e poi professionale tra un po'.